carissimi amici carissimi amici ci troviamo nella chiesa di sant'andrea eccolo qua sulla pala d'altare maggiore fratello di san pietro chiamato anche delle fratte perché la zona di roma qui vicino piazza finita dei mondi dove è avvenuto il famoso miracolo di ratisbon che adesso riprenderemo questo è l'altare destro dedicato a santa san francesco da paola perché in questa chiesa ufficiano i padri minimi di san francesco di paola nostro corregionale la cupola un po scura questo l'altare laterale dedicato alla sacra famiglia ecco l'altare illuminato del miracolo e questo è l'ingresso della chiesa grazie